Natale blindato, 70.000 agenti controlleranno il rispetto delle norme anticovidi nel periodo natalizio, l'annuncio della ministra Lamorgese. Avevano aggredito un sedicenne in metropolitana facendosi consegnare 100 euro, arrestati a distanza di due mesi. Sarà un weekend di pioggia e neve anche in pianura, esclusa dalla Coltre Bianca però la nostra provincia. Un altro brutto K.O. per il Brescia, Reggio Calabria, le rondinelle scono sconfitte per 2 a 1. La commedia delle pentole continua a cucinare per te anche in questo periodo con tutti i suoi piatti pronti per l'asporto. Menù di lavoro dal lunedì al venerdì, menù alla carta a pranzo dal lunedì alla domenica, a cena il giovedì, venerdì e sabato. Il menù spiedo, venerdì è sabato a pranzo e cena la domenica a pranzo. Chiamo a Maurizio, prenota il tuo asporto al 340-061-2225 e passa a ritirarlo in via Zara 125 a Brescia. La commedia delle pentole, tutto il nostro menù è anche sulla nostra pagina Facebook. Buonasera e buon sabato anche dal telegiornale. Dunque avete sentito dai titoli ben 70.000 agenti in campo per controllare il rispetto delle norme anti-covid e messe a punto dal DPCM per le prossime festività natalizie. L'annuncio è stato della ministra dell'interno Lamorgese. Ci saranno forze di polizia e numero elevato, circa 70.000 unità che saranno addette a questo tipo di controllo. Così la ministra dell'interno Luciana Lamorgese a SkyTG24 sui controlli in vista delle festività natalizie. Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperto i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento. Sicuramente faremo dei controlli più incisivi alle frontiere negli aeroporti per chi entra e esce, ha continuato la ministra. Dobbiamo stare davvero attenti perché l'esperienza di quest'estate non è stata un'esperienza positiva. Dobbiamo evitare una terza ondata. Ci saranno forze di polizia e vediamo ai dati e stiamo parlando appunto di covid. Veniamo ai dati nel Bresciano. Sono dieci i morti nelle ultime 72 ore. Tra le vittime è anche una 52enne di Brescia. Lo vedete nella nostra home page e fra l'altro appunto non ci sono solo i Bresciani, sono solo anziani ma ci sono appunto anche, come in questo caso, una donna di 52 anni. Vediamo nel dettaglio l'infografica della regione Lombardia. Eccola qua. Ci sono 17 persone in meno fortunatamente in terapia intensiva. Calano anche molto i ricoveri non in terapia intensiva. 238 in meno. Sono 111 le vittime nel Bresciano in questa giornata. In Lombardia, scusate, in questa ultima giornata sono dieci nel Bresciano, dicevamo, tra cui una 52enne. 3.148 nuovi positivi a fronte di 31.193 tamponi. A Brescia i nuovi positivi sono stati 284. Rimaniamo in Regione Lombardia ma per parlare dei bandi che sono stati aperti dalla regione a sostegno delle famiglie e delle micro imprese proprio in queste settimane. La prossima ne apriranno altri. 5.000 bonifici già fatti e quanto annuncia il Lombardia Notizie, l'Agenzia Stampa della Regione. Circa 5.000 bonifici già consegnati, liquidità fresca e ossigeno per le micro imprese lombarde esclusi dal DL Ristori del Governo. La conferma arriva da Lombardia Notizie, agenzia di stampa della Giunta regionale Lombarda. È già stato erogato il primo flusso di pagamenti degli indennizi che il Presidente della Regione Lombardia, Tilio Fontana, e la Giunta mettono a disposizione delle filiere produttive che stanno soffrendo particolarmente gli effetti della crisi economica, annuncia Lombardia Notizie. Le conferme e l'apprezzamento per questa tempestività arrivano dalle associazioni di categoria che hanno segnalato soddisfazione da parte dei titolari delle aziende e loro associate. Nel segno della concretezza dell'immediatezza con Matt Natilio Fontana sono già stati disposti bonifici a favore di 5.000 su 19.100 micro imprese che hanno presentato correttamente la domanda di sussidio regionale dell'Aviso 1 per un valore di oltre 6.600.000 euro. Con la stessa tempestività seguiranno gli altri flussi di pagamenti fino a completare l'erogazione di tutti i sussidi dell'Aviso 1 che ammontano a 28 milioni. Interventi prosegue Fontana a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese lombarde ispirate a tre principi fondamentali. Il primo quello di non lasciare indietro nessuno, il secondo quello della semplificazione burocratica, il terzo quello della rapidità di esecuzione. Avevamo previsto di fare arrivare i bonifici entro Natale e la partenza di questo primo flusso di pagamenti, conclude il Presidente della Regione, è la prova migliore di qualunque altra parola. E rimaniamo in Regione perché il Corriere della Sera quest'oggi ha riportato la notizia che il Presidente Fontana avrebbe scritto IPM in sostanza per farsi autorizzare a trattare ad una trattativa per l'acquisto fuori gara di vaccini anti-influenzali in Svizzera. Vediamo. Chiedo un preventivo via libera IPM di Milano per non ostacolarmi nell'acquisto a trattativa privata che ho deciso di promuovere in Svizzera nel tentativo di non farmi scappare 350.000 dosi di vaccino contro l'influenza. Non sarebbero queste le parole esatte ma la sostanza della missiva che lo staff legale del Presidente Fontana avrebbe inviato IPM di Milano sì. Lo scrive oggi il Corriere della Sera identificando nei destinatari della lettera i sostituti procuratori che l'estate scorsa lo hanno indagato per l'ormai nota vicenda dei camici, prima acquistati dalla centrale acquisti della Regione e poi donati dall'azienda del cognato del Presidente. Gli avvocati del Governatore Lombardo avrebbero quindi scritto ai magistrati sottolineando come le inchieste in corso stiano paralizzando i funzionali regionali nell'acquisto dei vaccini anti-influenzali di cui la Lombardia è in fortissimo deficit proprio per il timore di inchieste. Siamo alla cronaca, ora andiamo alla storia di un sedicenne che in metro a Vittoria era stato aggredito da un diciottenne e da un ventenne. Il fatto è accaduto circa due mesi fa, le indagini della squadra mobili hanno permesso di identificare gli autori dell'aggressione. I fatti risalgono alla sera del 27 settembre attorno alle 23 quando un ragazzo di 16 anni dopo aver accompagnato la propria fidanzata alla metropolitana Piazza Vittoria si è accorto di essere seguito da due giovani, un diciottenne italiano e un ventenne marocchino. Aveva tentato di seminarli entrando nell'ascensore della metro ma i due bloccando le porte con un piede erano riusciti a entrare e a rimanere soli con la loro vittima predestinata. Gli avevano intimato la consegna del denaro e impedito di rispondere al cellulare alle chiamate della madre. Non avendo contanti lo avevano costretto a recarsi a un vicino bancomate e ritirare 100 euro. Il sedicenne aveva sporto denuncia descrivendo i due rapinatori. Gli agenti della squadra mobile della questura di Brescia dopo accurata indagine con l'ausilio delle immagini delle telecamere installate nella metropolitana sono riusciti a risalire i due aggressori ed arrestarli. Il GIP del Tribunale di Brescia ha convalidato gli arresti disponendo per il 18enne italiano gli arresti domiciliari e per il complice, il marocchino di 20 anni, l'obbligo di firma. Andiamo a Sirmione invece per la storia di 4 ventenni tutti i bresciani che sono stati di fatto arrestati se in casa avevano un mattonella di un etto di acce. Quella che per i militari doveva essere una normale notifica di atti si è invece trasformata in un'operazione antidroga. I carabinieri della stazione di Sirmione venerdì sera si sono recati nell'abitazione di 4 ventenni tutti i bresciani per alcune notifiche. Ai militari però non è sfuggito un intenso odore di acce che i ragazzi hanno negato ci fosse. I carabinieri hanno preceduto con perquisizioni personali e dell'abitazione. Sotto il divano era stato nascosto un panetto da un etto di acce e altri 30 grammi erano già stati suddivisi in dosi. I quattro sono stati quindi arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per tutti in attesa del processo l'obbligo di firma. Ultima pagina parliamo del meteo che caratterizza questo weekend. Fino al 7 dicembre saranno giornate di pioggia. Ci sarà anche la neve in pianura ma pare non lambirà la nostra provincia. Vediamo infatti cosa capiterà. Ecco qua pioggia in arrivo al nord sul versante tirenico. Anche particolarmente forti tra la Liguria e la media alta Toscana e poi tanta neve sull'arco alpino ma attenzione nevicate anche sulle regioni di nord ovest fino in pianura tra il Piemonte e la Lombardia occidentale. Qualche piovasco anche all'estremo sud ma si tratta della perturbazione di ieri che ormai si sta allontanando. Durante il weekend prosegue la fase di maltempo anzi si intensifica il maltempo nel fine settimana quindi vediamo nel dettaglio cosa capiterà domani sabato con ancora il nord del versante tirenico a essere interessati da precipitazioni diffuse sulle Alpi centro orientali anche più di un metro di neve fresca quasi due in alcune zone attenzione anche al vento che soffierà davvero forte un po meglio sul medio adriatico al sud ma li peggiora a fine giornata. In effetti domenica giornata c'è un po' in tutta Italia con i fenomeni più intensi nelle regioni meridionali attenzione davvero piogge forti un parziale miglioramento atteso sulle regioni di nord ovest però attenzione anche la prima parte la prossima settimana sarà molto variabile e instabile sempre pressione atmosferica relativamente bassa e saranno tanti i sistemi nuvolosi che arriveranno sul nostro paese. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo. Anche in questo weekend non ci dimentichiamo di Operazione Natale la nostra iniziativa a sostegno dell'associazione Circolo Bissolati che stiamo seguendo e che sta aiutando coloro che sono in difficoltà. Oggi vi raccontiamo la storia di Marisa. La situazione è triste perché praticamente ho avuto mio marito sei mesi col covid ricoverato in moltissimi ospedali dalla poliambulanza a Grossetto, da Grossetto al civile e poi alla Domusia ancora sta molto male. La situazione è triste perché io non ho pensione e lui è un'ape sociale che basta dove arriva e basta insomma. Al 20 non abbiamo più nulla e così lasciamo più soldi in farmacia si può dire che nel mangiare. La situazione è triste speriamo che cambi in fretta. lui quindi sta ancora male? Sì, purtroppo si sta ancora male. Non è per il momento un pericolo di vita però non riesce ancora a camminare dopo sei mesi di letto. Convalescenza lunga. Convalescenza lunga e speriamo bene perché nessuno mi ha ancora tolto di dirmi che non c'è più pericolo. Nessun dottore me l'ha detto purtroppo. Senti come fai quindi con la casa, con le spese? Mi arrangio da sola per forza. Tenere lui, siamo al secondo piano poi dobbiamo fare anche tutti i bei gradini e tutto. Mi arrangio tutto da sola perché comunque non posso fare diversamente. A parte signor Giovanni che non è che ce ne sia molta gente disposta ad aiutarti. Ti dicono tutti sì 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 poi dopo non li vedi, effettivamente non li vedi. E di cosa avresti bisogno? Ma io non so, cioè niente per me quello che mi viene mi va bene a casa cioè le verdure è una cosa più importante. Cibo comunque alimenti. Cibo sì esatto perché per evitare di andare a comprare cibo che per evitare perché non ci sono. E tu non riesci a lavorare? No io ho 70 anni ma se non li dimostro ma ci vio. Portati bene, non si direbbe, non si direbbe. Siamo di razza così. In bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie mille comunque state facendo una cosa meravigliosa veramente. Grazie. Aiutaci ad aiutare il nostro hashtag che abbiamo lanciato in queste settimane. Se volete aiutare Marisa così come tutte le altre persone che sono seguite e delle insegnazioni che ci arrivano appunto anche al nostro numero di WhatsApp e che vengono seguite poi dall'associazione Circolo Bissolati sulla pagina Facebook di Circolo Bissolati Associazione troverete anche tutti i dati per contattarli e anche il link se volete così devolvere qualcosa direttamente con Paypal lo potete fare dalla pagina Facebook. In queste ore sono ferre le trattative tra governo, regione, comune e provincia per insomma raccimolare il caso proprio di dire i soldi per il trasporto pubblico locale. Allo stato attuale non ci sono le condizioni perché come invece prevede il DPCM il 7 gennaio i ragazzi tornino a scuola o possono tornare a scuola con il trasporto pubblico nella quota del 75%. Ne abbiamo parlato e la conferma ci arriva da Claudio Bragaglio, presidente dell'agenzia TPL, l'agenzia del trasporto pubblico di Brescia. Sentiamo. Il rischio evidentemente c'è se si rimane alle posizioni di queste ore. Noi abbiamo poco tempo a disposizione e questo poco tempo va utilmente valorizzato in modo tale da poter avere tutti i vari soggetti che verranno peraltro portati al tavolo perché lo stabilisce il DPCM che è stato firmato ieri e sia il tavolo prefettizio anche a poter intervenire in maniera autorevole e questo è un fatto di assoluta novità. Ma alla domanda il rischio c'è? La mia risposta è il rischio c'è anche perché noi senza risorse cominciamo il 7 gennaio ad operare in maniera assolutamente dolorosa per quanto riguarda il taglio del trasporto pubblico. Dal punto di vista dell'organizzazione avere il doppio ingresso 8-10 e nel contempo il 50% sui pullman dal punto di vista tecnico è nella condizione di poter scongiurare l'addensamento rischioso sui pullman. Ma il problema vero è se i pullman escono dai depositi oppure no e questo dipende solo dalle risorse e da null'altro. E quindi lo capiremo nelle prossime ore. Ci fermiamo solo pochi istanti poi apriamo la pagina sportiva ricca non solo per la debacle del Brescia ma parleremo anche di Balotelli al Monza e della Germani che incontra la Fortitudo tra poco. Rivalente con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Sanificare e sterilizzare tutti i vostri ambienti da oggi è diventato un gioco da ragazzi con Apollo e la sola forza del vapore. Buona serata anche agli amici sportivi e allora Brescia in primo piano un'altra debacle un altro K.O. brutto a Reggio Calabria quello che abbiamo visto oggi pomeriggio seguito in diretta con Diretta Stadio con Fabio Pettenò che ora ci commenta appunto il risultato. Il Brescia esce sconfitto dalla trasferta di Reggio Calabria. Ennesima brutta prova da parte del Brescia che dura come sempre 60 minuti poi si scioglie dando campo e spazio ma soprattutto vigore ad una squadra che non vinceva pensate da quattro giornate consecutive. Vince la Regina 2-1 sprofonda il Brescia in classifica a nove punti in dieci giornate. Lopez che davvero non riesce a dare un'impronta a questa squadra. Troppo fragile e nelle difficoltà si sgretola davvero come mattoni. Un Brescia che sciupava quattro niti da occasione della gol nel primo tempo. Una clamorosa con la traversa di Ragusa e poi subiva all'inizio della ripresa il gol di Krise Tic nell'occasione difesa davvero imbarazzante con due cambi di fronte che mettevano in ambasso sia Sabelli che Martelle. Poi Iorone non riusciva nel miracolo di fermare il colpo di testa di Krise Tic. Poi subito dopo arrivava il raddoppio grazie ad un capolavoro, un calcio di pulizione benissimo di Denis che pensate non segnava addirittura da tempo in memore. 2-0 Brescia che reagiva con Ragusa. Un gol bello su Astiz dell'unico immenso Torregrossa. Forse uno di pochi a salvarsi insieme a Ragusa. 2-1. Si pensava ad un arrembaggio finale invece le energie e le idee mancavano. Il Brescia usciva sconfitto dal granillo. Una pesante battuta d'arresto per la formazione bianco-azzurra. Tante riflessioni che devono essere fatte in primis da parte del presidente Massimo Cellino. La posizione di Lopez è in questo momento sicuramente sotto la lente di ingrandimento ma martedì si torna in campo. Non ci sarebbe nemmeno il tempo per cambiare e si torna in campo per vedere quale sarà la reazione del Brescia. Si gioca contro la Cremonese e sabato addirittura arriva la capolista. Grazie Fabio Petteno e il mister che questa sera non ha parlato. Si è mantenuto in silenzio stampa. Un silenzio stampa non della società ma un silenzio stampa volontario. Quindi nessuna dichiarazione da mister Lopez al termine della partita. Si torna invece, siamo tornati a parlare invece di Balotelli perché è notizia di oggi pomeriggio che sarebbe praticamente fatta con il Monza. Quindi un Mario Balotelli che ricomincia dalla Serie B lunedì avrà le visite. Vediamo. Mario Balotelli al Monza. Ormai sembra fatta lunedì le visite. Per lui ci sarebbe un contratto di sei mesi. Mario Balotelli ricomincia quindi dalla Serie B dopo l'esperienza a Brescia e ricomincia con Adriano Gagliani e Silvio Berlusconi che lo ingaggiano per la terza volta. Le due precedenti erano state al Milan. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati anche gli interessamenti di alcuni club in Sud America ma Balotelli aveva preso tempo in attesa di proposte più convincenti. Quindi un in bocca al lupo a Balotelli per la sua nuova avventura in quel del Monza che il Brescia incontrerà tra poco. Parliamo ora di basket perché tra poco, pochi minuti prima delle 20, daremo la linea al Pala 2A dove ci saranno Alberto Novello e Alberto Banzola per la partita di Palacanesto Germani-Fortitudo-Bologna. In diretta tutta ve la trasmetteremo come sempre con le emozioni, con i vostri messaggi ma la partita è particolarmente importante perché è anche l'esordio sulla panchina di coach Maurizio Buscaglia. I temi della partita sono due, nel senso che noi dobbiamo cercare con coraggio e con determinazione di mettere in campo due parti del nostro lavoro. La prima parte riguarda quello che abbiamo fatto in questi giorni insieme con grandissima disponibilità da parte dei giocatori, con grande impegno, con fatica che è una cosa molto importante e nello stesso tempo, perché queste sono cose che ci devono aiutare nel proseguio, in quello che sarà poi quello che vogliamo essere, e nello stesso tempo avere un'urgenza forte per la vittoria, ovviamente, perché andiamo in campo per farlo. Lo dobbiamo fare secondo quelli che sono i nostri ora criteri, dobbiamo farlo secondo quello che noi abbiamo in mente di diventare, però nello stesso tempo avere veramente l'urgenza di capire che sono sfide tutte che devono muovere la classifica, che devono farci tornare indietro anche nel risultato il lavoro. La Fortitude è una squadra che non scopro io, che è di talento, è una squadra con tanti giocatori che hanno punti nelle mani, è una squadra che al completo ha anche una sua lunghezza, quindi insomma da quel punto di vista dobbiamo essere, ripeto, molto attenti. È altrettanto vero che è un momento in cui mettiamo in campo noi stessi e quindi c'è anche focus su come noi dobbiamo fare le cose per tutti i 40 minuti, anzi cercando di crescere all'interno dei 40 minuti. In bocca al lupo allora a Coscia e Maurizio Buscaglia, alla Palla Canestro Germani che seguiremo tra poco a partire dalle 19.55 sulla nostra rete. Mi fermo qui con il telegiornale, vi ricordo che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet e livebrecia.tv sul quale trovate la diretta del canale 16197 delle digitali terrestre e poi come di consueto se volete ricevere le nostre notizie direttamente sul vostro telefonino non dovete fare altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram e livebrecia news oppure e livebrecia sport. Grazie per essere stati con noi, continuate a rimanere qui per una grande serata di sport su e live. Grazie e buona serata a tutti. Grazie 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 a tutti.